5. Schedario Leggere, leggere, leggere. Partecipare a seminari, congressi, eccetera. Perché? Se non mi serve a sapere che cosa sto a fare qui. Commento Non è solo così. Noi abbiamo la possibilità di interiorizzare anche inconsapevolmente una quantità di dati veramente enorme. Se scatta un'esperienza in cui ci è necessario ricordare o sapere una certa cosa, allora questa enorme quantità di dati, senza che noi ce ne rendiamo conto, si apre come uno schedario e ci serve nel momento in cui ne abbiamo bisogno. Anche se, poiché un umile lavoro della mente continua a non servirci per comprendere perché noi siamo qui. Grazie. 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 Grazie.